Come persona disabile ho imparato a convivere con la mia condizione, con ironia e forza d'anima. Una parte di me che mi ha insegnato a guardare il mondo con una prospettiva unica, fatta di resilienza e una buona dose di sarcasmo per affrontare le sfide quotidiane. Ma quando ho sentito della gaffa di Antonello Venditti, che ha pensato bene di impreziosire il suo concerto con insulto rivolto a una persona disabile, devo ammettere che, nonostante tutta la mia ironia, anche il cinismo ha fatto un passo indietro, colpito nel vivo dei sentimenti. E così, caro Antonello, eccoci qui con il microfono in mano, tu sul palco, a fare una battuta di pessimo gusto e io qui, a chiedermi se il nuovo trend della musica italiana sia quello di trasformare i concerti stand-up comedy di bassa lega. Ma andiamo con ordine. Antonello Venditti, il cantatore che ci ha regalato perle musicali come Roma, Capoccia e Notte prima degli esami, ha deciso di arricchire il suo curriculum con un nuovo straordinario traguardo, l'offesa gratuita durante un concerto. Perché fermarsi a emozionare con la musica quando si può anche insultare, giusto? Durante una sua recente esibizione, Venditti in un momento di quelli che si spera essere di confusione e non di totale lucidità, ha scelto di rivolgere un insulto a una persona disabile. Un episodio che lascia interdetti, soprattutto considerando che stiamo parlando di un uomo che dovrebbe avere un certo dimestichezza con il potere delle parole. Forse Venditti pensava di porre un nuovo tipo di show interattivo, o magari era solo la ricerca di una nuova forma di espressione artistica. Dimenticando però che rispetto è la base di qualsiasi performance. Ironico come proprio un artista che ha fatto del raccontare le emozioni e i sentimenti umani la sua cifra stilistica. Possa cadere in una gaffe tanto insensibile. Forse stava tentando di aggiornare il suo repertorio con un tocco di black comedy, improvvisata, senza rendersi conto che il pubblico aveva già fin troppo sorriso alle sue spalle. Venditti caro Antonello. Ci sono modi molto più creativi per attirare attenzione durante un concerto e se proprio devi offendere qualcuno, forse dovresti iniziare dallo specchio. Il rispetto, dopo tutto, dovrebbe essere la nota principale di ogni tua canzone. Caro Antonello, questa volta l'esame non l'hai superato.